Un capo stazione dell'EA di 40 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in via Botteghelle a Napoli. Un operaio è rimasto invece ferito ed è ora ricoverato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione in zona dove c'è un'area di smistamento dei convogli della circunvesuviana, si stava procedendo a un'operazione di bonifica e di pulizia. Opera affidata a una ditta esterna all'EA, l'ente autonomo Volturno, che si occupa anche di trasporto pubblico. Il camion, che era fermo per cause ancora in corso di accertamento, ha preso la corsa travolgendo alcune persone che erano davanti, tra cui il capo stazione, che poi è deceduto. Non si esclude che l'uomo, insieme con l'operaio, possa aver tentato di fermare il mezzo, venendo travolto dal mezzo fuori controllo e senza conducente. Un incidente assurdo, qualunque parola è fuori luogo, ha detto il presidente dell'EA, Vumberto De Gregorio, solo sgomento, per quel che vale non lasceremo senza sostegno materiale la famiglia. Alfonso Langella, della Cisle Campania, invece ha detto auspichiamo che venga fatta chiarezza su quanto accaduto al più presto e ci associamo al dolore delle famiglie e dei lavoratori rimassi vittime dell'ennesima tragedia sul luogo di lavoro. Grazie. 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 Grazie.